E' iniziato il conto alla rovescia che porta dritti dritti al 2019. Mancano pochi giorni all'anno nuovo e nel cartellone del Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso, coordinato dall'UMPLI insieme alle Proloco in collaborazione con Regione Marche e Provincia di Peso Rubino, fioccano le opportunità per attendere il 2019 in piazza al ritmo di musica live. A Fano grandi ospiti e musica dal vivo a partire dalle 22.15 in piazza 20 Settembre davanti al Palazzo Malatestiano dove sarà posizionato il palco. Chi invece non se la sentirà di stappare lo spumante all'aperto sempre a Fano a Teatro della Fortuna ci saranno i comici del San Costanzo Show che si produrranno in un ride bene chi ride l'ultimo con brindisi e gran finale in musica. Per i più temerari invece il Capodanno sul ghiaccio con un DJ console dal vivo in piazza degli avveduti. Conto la rovescia in piazza anche a Pesaro con lo spettacolo Lois in the Air che inizierà alle 21.30 in piazza del Popolo con un DJ set a cui seguirà la musica dal vivo dei Carta Carbone, live band con hits degli anni 70 e 80. Musica anche il primo di gennaio di genere diverso però con il concerto di Capodanno dell'orchestra sinfonica Rossini alle 21.15 al Teatro Rossini dedicato però al compositore Strauss. Alle ore 11 del primo giorno dell'anno invece per chi vuole smaltire il cenone da Piazza del Popolo partirà il dodicesimo giro di Capodanno, una podistica di 10 chilometri tutti vestiti da Babbo Natale con brindisi finale, mentre nel pomeriggio gli eventi saranno dedicati soprattutto ai bambini con uno spettacolo di burattini. Si attenderà la mezzanotte in piazza anche a Urbino a partire dalle ore 23 in Piazza della Repubblica, concerto dal vivo, animazione e brindisi augurale per un felice 2019. Mentre per il giorno di Capodanno la musica cambia con il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Raffaello Sanzio alle ore 17.